Il diabete, tecnicamente detto millito ma generalmente conosciuto come diabete, è una malattia caratterizzata da iperglicemia, cioè da un aumento del glucosio nel sangue. Chi soffre di diabete potrebbe avere alcuni dubbi circa l'alimentazione. Infatti non per tutti è sempre chiaro quali alimenti possano essere consigliati in questi casi e quali invece andrebbero evitati per far sì che non ci sia un innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue. È fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata, avverte la dottoressa Mare Grazia Carbonelli, direttore di dietologia dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e vice segretario ADI, Associazione Dietetica Italiana. Ascoltiamola in questo servizio. Una sana alimentazione è molto importante per la prevenzione e anche per la terapia del diabete, soprattutto del diabete di tipo 2. Chi ha una familiarità per questa malattia deve stare molto attento all'alimentazione e a controllare periodicamente la glicemia perché se compaiono malattie come l'obesità è facile che si può sviluppare anche il diabete. Il legame stretto che c'è tra l'obesità e il diabete è dimostrato dal fatto che si è cognato il termine di diabesità perché appunto il diabete è la prima complicanza dell'obesità ed è anche una delle più gravi. Quindi è importante per prima cosa mantenere un giusto peso nel caso della prevenzione del diabete e soprattutto se si è affetti da diabete cercare di ridurre il peso se abbiamo un problema di sovrappeso o di obesità. Quindi questa è la prima regola insieme ad un'adeguata attività fisica che favoriscono sicuramente la perdita di peso e il mantenimento del raggiungimento di un peso accettabile a lungo termine. Per quanto riguarda la scelta alimentare ci sono alcuni cibi che sono più pericolosi per quanto riguarda l'impatto sulla glicemia e sono soprattutto gli zuccheri semplici che si trovano prevalentemente nei carboidrati raffinati, si trovano nei dolci, si trovano nell'alcol, nelle bevande zuccherate e anche nella frutta. Quindi sicuramente per avere un'alimentazione equilibrata e prevenire e curare il diabete dobbiamo ridurre l'utilizzo degli zuccheri semplici, prediligere i carboidrati complessi sia a pranzo che a cena, quindi prevalentemente pane e pasta integrali e sicuramente limitare l'utilizzo di alcol e di bevande zuccherate. Il dolce può essere utilizzato diciamo soltanto in alcune occasioni e non deve far parte sicuramente della dieta quotidiana. Attenzione anche a non eccedere con l'alcol e soprattutto cercare di associare a questa sana alimentazione una buona attività fisica. Cerchiamo di seguire quelle che sono le regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice di consumare 5 razioni al giorno tra frutta e verdura e se abbiamo problemi di diabete utilizzeremo 2 razioni di frutta e 3 di verdura, perché la frutta nella dieta del diabetico non è a volontà, perché anche questa è molto ricca di zuccheri semplici. Seguendo queste regole e seguendo le terapie che ci prescrive ovviamente il medico che seguirà la nostra situazione di salute, possiamo essere sicuri di fare un'alimentazione equilibrata di tipo mediterraneo e cercare di prevenire e di curare il diabete.